oi ciao venom ciao senti io esco un attimo guarda del gatto cosa? ci si vede dopo non sono mica un catsit ciao ciao oddio forza vieni qua non voglio perdere tutto il giorno a ricorrerti dai forza vieni qua ecco tieni mangia su è bravo ti piacciono vero? voglio provarli anche io magari sono buoni non sono per niente male vedo che ti stai divertendo no sempre il solito bugs beh pensavo serola eh comunque tu che sei uscita dalla masca eccomi allora vi siete divertiti? no no non avete fatto amicizia? no per niente stavo scherzando no ha 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 ha